Non è il momento dell'allarmismo ma è di certo quello dell'allerta. Il Ministero della Salute, grazie alle indicazioni da parte della comunità scientifica, ha diffuso le norme che ogni cittadino individualmente può seguire per evitare il propagarsi del contagio. Il virus infatti ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale e se si dovesse diffondere troppo rapidamente gli ospedali non sarebbero in grado di offrire assistenza a tutti coloro che ne avrebbero bisogno. Per tutelare se stessi e gli altri, specialmente i soggetti più fragili, le autorità hanno descritto 10 buone pratiche. Numero 1, lavati spesso le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica. Numero 2, evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di problemi respiratori, la distanza consigliata è quella di almeno un metro. Numero 3, non toccarti occhi, naso o bocca con le mani. Numero 4, starnutisci o tossisci all'interno di un fazzoletto o perlomeno nella piega del gomito. Numero 5, non assumere antivirali né antibiotici senza prescrizione del proprio medico di base. Numero 6, pulisci spesso le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Numero 7, usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate. E questo per evitare che le mascherine scarseggino per chi ne ha realmente bisogno. Numero 8, i pacchi provenienti dalla Cina, i prodotti made in China, non rappresentano alcun pericolo. Numero 9, gli animali da compagnia non diffondono il virus. Numero 10, in caso di dubbi non correre al pronto soccorso, ma rivolgiti al tuo medico di base, così da non intasare le corsie d'emergenza degli ospedali e non mettere a rischio l'incolumità dei degenti. Inoltre, secondo quanto risposto dal presidente della regione, Marco Marsilio, chi dall'8 marzo rientra in Abruzzo o da una delle zone rosse, ha l'obbligo di informare il proprio medico o le autorità territoriali competenti. Ha l'obbligo inoltre di rimanere a casa in isolamento per almeno 14 giorni e di informare immediatamente il personale sanitario in caso si presentino i sintomi. Il mancato rispetto di queste norme comporterà delle sanzioni e nei casi più gravi anche l'arresto.